15 dicembre 1972, è la data del primo bollettino di previsione valanghe del Friuli Venezia Giulia, anche se la raccolta dati risale addirittura a tre anni prima. Oggi, grazie anche agli strumenti della tecnologia, il servizio è stato reso particolarmente efficiente e lavora, secondo la filosofia tipica di queste terre, in silenzio, ma con efficaci risultati. Sull'argomento si è tenuto a Udine un convegno che ha visto la partecipazione di esperti nostrani e stranieri nel segno di una collaborazione e di uno scambio di esperienze che può soltanto far ulteriormente crescere questo tipo di iniziativa, curata dal settore neve e valanghe della Direzione Regionale delle Risorse Rurali e Forestali del Corpo Forestale del Friuli Venezia Giulia. L'adesione nel 1982 all'Aineva, ovvero all'Associazione Interregionale di Coordinamento e Documentazione per i problemi riguardanti la neve e le valanghe, della quale fanno parte tutte le regioni e le province autonome alpine, ha ulteriormente valorizzato l'attività che deve comunque fare i conti con una situazione endemica nel nostro paese, ovvero la mancanza di una adeguata cultura della prevenzione. Il servizio del Friuli Venezia Giulia può contare oggi su 50 stazioni automatiche di rilevamento accanto a 15 stazioni fisse più altrettante manuali a fronte di una decina di rilievi settimanali eseguiti in quota durante i mesi invernali.